Tutti ai fornelli, già il nome La Casa Matta, il nome del ristorante, la dice lunga sull'estro e l'estrosità di Luca Loris Barbiero, che è proprietario e chef della Casa Matta. Ciao a tutti, ciao Cristiano. Grazie mille per la tua presenza e allora vediamo subito con la grafica dov'è il tuo ristorante La Casa Matta. Allora lo troviamo a Torino, ai limiti di Torino in corso Francia, 448, questi sono i numeri di telefono, per informazioni guardate anche il sito lacasamatta.org. La prima domanda è come mai questo nome così particolare, La Casa Matta, da dove deriva? Ci sono varie motivazioni, nel senso che, proprio perché siamo al confine tra Collegno e Torino, è una casa matta, nel senso che è l'ultimo avamposto, una volta la Casa Matta era l'ultimo avamposto della civiltà. Ah, un pezzo di storia allora. Un pezzo di storia, sì, è una casetta piccolina, indipendente, su due piani, quindi anche un po' particolare. Abbiamo un po' di foto variegate. Abbiamo qualche foto, sì, dopodiché siamo anche vicini a Collegno e all'ex manicomio di Collegno, quindi anche da lì deriva un po' la cosa. Non per ultimo è una, diciamo, una rivisitazione del nome di una canzone dei Madness, di cui io sono particolarmente fan, e appunto sarebbe House of Fun, che è Casa del Divertimento, che poi in italiano ho trasformato in Casa Matta, quindi ci sono più motivazioni per questo nome. Ecco, è quella guardia inglese, là? Quella è una guardia inglese di carta pesta che abbiamo trovato in un negozio e ci piaceva, a me piace molto lo stile londinese, quindi all'interno si trovano vari arredamenti, partendo dagli anni 20-30, quindi jukebox, piuttosto che lampioni tipici delle strade di Londra, distributori automatici. Questo è il nostro logo, sì. Casa Matta, che bello, carino. Avete già visto nell'inquadratura di Valeria, che sta dietro la telecamera, che qui abbiamo un piatto freddo, una bagna cauda particolare. Sì, io gioco molto sulla tradizione, sulla rivisitazione dei piatti, quindi tradizionali, rifatti in chiave moderna, in chiave avanguardista, mi piace il cibo e divertimento. Ma ci sono le patate fritte, le patatine fritte? No, allora, qui abbiamo praticamente la bagna cauda, che è solida e si può servire tiepida, perché è stata addensata con l'agaragar, che è un gelificante vegetale, quindi adatto anche ai vegetali. L'agaragar? Agaragar. Nei paesi orientali viene usato da sempre al posto della nostra colla di pesce, che di pesce in realtà ha ben poco, e appunto viene estratta dalle alghe, ha un potere gelificante molto superiore rispetto alla classica colla di pesce, e in più sopporta temperature fino a 60-80 gradi. Quindi l'ho addensata, si può servire tiepida, l'ho intervallata con le classiche verdurine, che sono il tapinabò al vapore, il peperone arrostito, e poi ho messo varie verdure crude, quindi il peperone, il tapinabò crudo, l'emmental, quelle che dici che sono patatine. Ah, emmental! Ma che figura, emmental! Sembravano patatine fritte da lontano. E poi c'è il cipollotto bagnato nel Barbera, come vuole la tradizione piemontese. Il cipollotto nel Barbera. Quindi è comunque una bagna cauda a metà strada tra l'innovazione e la tradizione. Sì, assolutamente. Ed è uno dei piatti che si trova a rotazione nella tua carta. Sì, in questo momento ce l'ho in menù. Ecco, perché nel tuo ristorante, nella Casa Matta, ami fare un po' turnover di piatti. Sì, ogni 20 giorni, un mese circa, cambio tutto il menù, solitamente quasi tutti i piatti nuovi, e appunto troviamo piatti semplici, piatti piestrosi, sono circa cinque primi, cinque secondi, due o tre antipasti, più gli aperitivi. A me piace molto fare aperitivi particolari, quindi improvvolta. Noi vediamo una galleria di fotografie molto appetitose, visto l'orario. Grazie. Grazie.